I sindacati temono esuberi per 10 dipendenti dell'Aitec, azienda aquilana sul mercato da 25 anni. Sono 42 attualmente quelli in forza. Dopo un'assemblea con il personale, i sindacati hanno chiesto l'attivazione di un tavolo istituzionale per coinvolgere sia la politica del territorio che quella regionale. Così i segretari di FIM, FIOM e WILM e le RSU di FIM, CISL e sensibilizzare al tempo stesso le altre aziende del settore affinché ci possano essere le giuste ricadute di questi importanti carichi di lavoro nell'imminente futuro sul territorio che non si può permettere l'ennesimo fallimento industriale. Si tratta della prima procedura di risoluzione del personale in provincia dopo lo sblocco dei licenziamenti sospesi a causa della pandemia. L'avvertenza è legata al ricollocamento in sede di tutte le unità, circa 20 lavoratori off-load che erano in forza la tale Salenia Space, tutte persone altamente specializzate. L'Aitec è un'azienda che sta sul territorio da 25 anni. Attualmente ci sono 42 dipendenti a tempo indeterminato ma ha toccato punte anche di 70 dipendenti. Purtroppo è la prima procedura di licenziamento collettivo nella provincia dell'Aquila per 10 persone cosa che ci allarma perché chiaramente un'azienda che è un fiore all'occhiello nel settore di cui si occupa, nel settore dello spazio, non può avere una crisi così profonda. Le motivazioni sono tante, le abbiamo scritte su quello che è il nostro comunicato stampa. L'obiettivo è di sensibilizzare le istituzioni, la politica, le aziende del territorio sul problema perché il settore spazio è un settore che è in forte crescita dopo gli investimenti governativi quindi crediamo che ci siano delle opportunità per tutte le aziende e l'indotto anche. Questo il quadro prospettato dall'azienda ai sindacati dagli anni 2018-2021 a seguito della flessione del settore l'azienda vista il ricollocamento nella propa sede di tutte le unità in forza alla Thales. Di conseguenza l'Hitec ha dovuto fare uso di strumenti di sostegno al reddito contratti di solidarietà nel periodo precedente al Covid e Cigo nel periodo di pandemia e ci sono stati importanti cambiamenti sia nell'assetto aziendale sia nella nuova politica commerciale da parte del nuovo management con l'obiettivo di diversificarsi nel mercato.